Questa telecamera di sicurezza di un negozio ha ripreso il passaggio del camion che ieri ha travolte ucciso quattro persone nel centro di Stoccolma. Rivediamo le immagini rallentate. La gente passeggia tranquillamente. Poi fuggi fuggi generale. E subito dopo si vede il camion sfrecciare ad una velocità molto sostenuta. È una scena terrificante. Secondo la polizia, alla guida del camion c'era l'uomo arrestato ieri a Marsta, una cittadina a 40 chilometri a nord della capitale. Si tratta di un 39enne originario dell'Uzbekistan, una repubblica dell'ex Unione Sovietica. Ha quattro figli. In passato ha pubblicato su Facebook materiale di propaganda dell'Isis. L'uomo era conosciuto ed era già finito nel mirino dell'intelligence, dice il capo della polizia. Nella pomeriggio altre tre persone, due uomini e una donna, sono stati arrestati in un blitz antiterrorismo nel sud di Stoccolma. Secondo i media, sarebbero collegati all'Uzbeko. Sempre secondo i media, a bordo del camion killer, è stata trovata una borsa con un ordigno rudimentale inesploso. Un dettaglio investigativo che, se confermato, preoccuperebbe molto molto di più. Intanto gli svedesi continuano a portare fiori sul luogo dell'attentato. Anche una commossa principessa vittoria deposita un mazzo di rose rosse in ricordo delle vittime. È una tristezza enorme, dice, ma dobbiamo trovare la forza di andare avanti in un modo o nell'altro. Vogliono che abbiamo paura. La Svezia non si inchinerà, ma i terroristi, afferma il primo ministro svedese Lofven. Chiudiamo con una buona notizia. 6 di 15 feriti sono stati dimessi.